Ciao a tutti! Questo sarà un nuovo video ASMR della serie Back to School. Dopo infatti uno show in tell, uno story time e un paio di role play, è arrivato il momento di un motivazionale. Sarà un motivazionale un po' particolare perché voglio prendere spunto da alcune vostre email e alcuni vostri messaggi che mi sono arrivati su come affrontare il primo giorno di scuola o di università. Mi avete mandato veramente tante, tante, tante letterine e farò un po' un piccolo riassunto, diciamo, dandovi qualche mio personalissimo e umile consiglio. Prima di iniziare però non dimenticate di mettervi comodi, di indossare le cuffie oppure gli auricolari e di lasciare un bel like se questa idea vi piace. Ah, e voglio anche salutare uno di voi perché me lo chiedete veramente in tantissimi e sarebbe impossibile accontentare tutti. Quindi ho deciso di salutare in questo video l'ultima notifica di Instagram. Vediamo un po'. Ok, l'ultima notifica è di Iaco trattino basso chiaro. Ciao ecco, chiaro. Un bacino fatto sotto. Bene, iniziamo. Eccoci. Allora, ho qui il mio fedele blog con il pratibo che vi ho mostrato qualche video fa e che utilizzerò per fare un po' di suoni rilassanti, mentre sussurro. D'altra parte, questo è un video dedicato al rilassamento, quindi anche i suoni sono massimamente importanti, oltre al contenuto, se mi interessa sentirlo. Dunque, molti di voi mi hanno scritto preoccupati, in particolare sul discorso dell'essere accettati. Mi sembra di rivivere alcune cose che ho vissuto anche io ai tempi della scuola, non ai tempi dell'università, perché come già sapete la scuola è stato il mio periodo più difficile, mentre all'università è andato tutto molto molto bene. Nel mio caso, penso che tutto questo abbia avuto a che fare un po' con il concetto della favola del brutto anatroccolo. Molti pensano che il brutto anatroccolo sia una fiaba, una favola meglio, in questo caso ci sono gli animali, sulla bellezza non riconosciuto, però non è così. Il brutto anatroccolo parla essenzialmente di chi non riesce a sentirsi a casa, perché non viene capito, perché si ritrova in contesti sbagliati, non adatti. Ed ha un finale positivo, perché fa capire che chiunque, una volta trovato la propria famiglia d'appartenenza, anche non necessariamente è la propria famiglia di origine, può stare bene e può essere riconosciuto in tutto il suo splendore. Beh, vi consiglio di leggerla se non l'avete mai letto, o di rileggerla se l'avete già fatto, ma non vi eravate mai soffermati ad analizzare questo significato. Comunque, veniamo alla parte dei consigli. Io direi innanzitutto che per affrontare bene un percorso scolastico, universitario, ma in generale anche, questo è valido anche quando si entra in un ambiente nuovo, lavorativo, L'approccio più corretto sia quello del relax, in sostanza, siate rilassati. Avere un po' di ansia per un'interrogazione, o magari per un esame, o per una prova, è assolutamente normale. Ma quando quest'ansia inizia a diventare troppa e invalidante, allora dovete renderti conto che c'è proprio qualcosa che non va. E magari è il caso di parlarne con le persone che vi sono vicine. È probabile magari che l'ambiente nel quale siete non sia quello giusto, perché un ambiente buono nel quale trascorrere del tempo è un ambiente che ci faccia sentire tranquilli. E magari l'ansia per una verifica, o per una prova, può essere trasformata in emozione, in quella carica che dà proprio l'adrenalina. Non deve mai diventare panico, se accade, c'è qualcosa che non va, se accade, forse non state prendendo il tutto nel modo giusto, oppure quell'ambiente vi sta rendendo le cose più difficili. Facciamo i grattini alla pancia del brado. Carino! Secondo consiglio. Non cercate per forza di piacere agli altri. Questo è un mio punto cardine, un valore di vita. Non è applicabile solo alla scuola, ma lo è in generale, secondo me, alla vita. Purtroppo però la scuola è il primo ambiente in cui impariamo a essere giudicati, in cui dobbiamo in qualche modo lottare per far riconoscere il nostro valore, per far capire ai professori o ai compagni cosa siamo. Intanto è partito un antifurto. Vabbè. Diciamo che all'università succede qualcosa di simile con i professori, perché si ha un'unica occasione per dimostrare il proprio valore in merito alla materia studiata, però, ovvero l'esame. E lì ci si gioca un po' tutto. Ma al tempo stesso, all'università, proprio in virtù del fatto che il rapporto è più limitato e concentrato semplicemente al discorso relativo all'esame, alla materia in questione, c'è meno investimento emotivo nella relazione, e quindi risulta anche più facile non caricarsi del peso del giudizio del professore. In più, all'università, le classi sono un po' più fluide, quindi non siamo costretti ad avere rapporti con persone, e compagni che magari non ci piacciono o a cui noi non piacciamo. E' più facile scegliere con chi stare. In ogni caso io credo che proprio già dai tempi della scuola si debba imparare a scrollarsi di dosso questa idea di dover necessariamente piacere agli altri e ricordarsi che un voto è soltanto un voto, non determina la nostra persona, non determina chi siamo e chi diventeremo. E la valutazione è da un'altra corretta, da un'altra addirittura sbagliata da parte di un'altra persona come noi, solo magari con qualche anno in più e un po' di esperienza alle spalle. A questo proposito anche un consiglio pratico, un po' buffo, che però secondo me funziona, da applicare quando abbiamo paura, una paura esagerata di un professore. Cerchiamo di avere, sì, rispetto della persona, questo è fondamentale, ma di immaginarla anche nei suoi momenti di fragilità o di imbarazzo o di vita quotidiana semplice. Non lo so come funzionava tantissimo, soprattutto prima degli esami e delle interrogazioni. pensare ai professori che temevo di più in versione casalinga, magari, mentre andavano in bagno. Sembrava una cosa un po' strana, molto strana, però era veramente utile per decostruire questa immagine autorevole della quale avevo un po' troppo timore. Alla fine vi lascio con un po' di suoni per farvi addormentare. Ho un ultimo consiglio da darvi, e questo riguarda l'espressione di sé. Abbiate il coraggio di esprimere voi stessi, siate tutto ciò che volete essere, non fatevi frenare. È vero, l'ambiente scolastico ha delle regole, delle regole che riguardano l'abbigliamento, delle regole che riguardano il comportamento, soprattutto, l'atteggiamento. Questo accade in qualsiasi luogo, ma con il rispetto di queste regole, e soprattutto applicando un po' di buonsenso, perché le regole non sempre sono giuste, ma è il buonsenso a determinare molto spesso cosa non donneggi gli altri e cosa possa essere considerato rispettoso. Dicevo, con il buonsenso, non ponete limiti alla vostra espressione. Se siete amanti, mi trucco, truccatevi, sia che siete maschi, sia che siete femmine. Se vi piace vestire di nero, vestite di nero, se vi piace rasarvi i capelli, fare una cresta fucsia, fatelo. E, mi sento di dire, combattete per questo diritto, in caso qualcuno non voglia concedertelo. Bene, ho detto tutto. Vi lascio a qualche suono. E vi auguro una buonanotte. Un buon relax. Pascini fadosi. Un buon relax. Un buon relax. Un buon relax. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.